E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. Finalmente riunito il famoso trio delle Black Sisters! E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. E allora signori attenzione, per l'ottava puntata, l'ultima, una grande sorpresa. Grazie a tutti Grazie a tutti